salve ragazzi qui del 38 siamo sempre su ww 2020 allora volevo fare una cosa esagerata i stream rulers cioè è il 2 contro 2 però si scontro tutte e due lia sia lia e sia io lo faccio a versione femminile perché mi garba di più allora come personaggi volevo mettere so che voglio cambiare lei che volevo mettere un altro personaggio in realtà so che non mi ricordo i costumi le skin non mi ricordo se era lei non era lei dove 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 non la trovavo non la trovo più vabbè lei non la voglio mettere in realtà no forse era lei no dove era volevo usare un altro personaggio femminile se la ritrovo magari è la cosa fortuna dov'è perché questi sono tutti personaggi sia importanti storici e non della wwi o non trovo quello che voglio dove sta bravo non riesco a trovarlo perché gli faccio schifo ecco sì è lei errore mio dai che è il momento di atti di allergia di attacchi allora non è vero allora scegliamo personaggi come lei si vedono dove fare maschi solo femminile possiamo fare quindi scegliamo qualcun altro lei l'abbiamo già scelta la volta scorsa quindi no evitiamo mettiamo qualcun'altra ok mettiamole allora questi sono i nostri personaggi e speriamo bene ma non mi ricordo io chi sono tra i due non mi ricordo allora ho provato a fare il gameplay con quella qui maschi e ho avuto non lo so perché mi ha bloccato praticamente per un po di paesi e il video quindi ho dovuto cancellarlo e rimuoverlo quindi ho dovuto rifare un altro video vediamo in questo modo con a tema femmine donne eh vediamo un po se stavolta ci ho preso sì sì eh caccia anche lei è ignorantissima molti personaggi oh i personaggi femminili sono fatti benissimo i maschi hanno quelle facce brutte perché ho dovuto riguardarli tutti alcuni sono fantastici voglio fantastici perché sono personaggi importanti e storici della WWE intanto eccola qua guardala qua guarda questa è arrivata sì ci vediamo le intro perché comunque sono simpale soprattutto che sono studiate e sono accorate e si sta mi sono un po' esercitato rispetto al gameplay che ho fatto precedentemente che le ho pigliate un po' e mazzate perché alcuni tasti non me li ricordavo perché comunque i tasti sono banali del gioco solo che io non è che sono molto abituato ecco a giocarci alla WWE per il resto misurati messaggi notifiche vabbè dopo mo chi c'è qua ah lei lei anche lei ci sta eh 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 questo nome è importante sappiatelo per chi conosce la WWE lei sarebbe eh eh la la nipote di colui che ha fatto la WWE non mi ricordo sempre quel nome comunque importante perché la WWE è nato proprio da da quello che era qualunque gestisce proprio la WWE ma io qua faccio schifo non vedo il wrestling questo qua dal 2006 2005 quindi so giusto qualcosa ma devo riguardare un po' tutta la storia della WWE intanto vabbè i personaggi da notare che sono tutti maschi che che fanno il tipo personaggi femminili ragazze lì niente vabbè ma è arrivata quest'altra arrivata pure lei è un altro bel personaggio un'altra bella rotestera alcuni hanno fatto storia guarda come tutta bella contenta lei è piena vedete l'estetica ci sta tutto ripeto sempre è il purtroppo è troppo meccanico meccaninoso il il gioco quello è il problema ecco qua guarda come tutta bella contenta lei è tutto chiaro e poi ha dei dei bombololo grossa così vabbè dettagli guarda come tutta bella contenta e fiera spero che non mi bloccano anche questo video perché uno è stato bloccato e c'è il resto maschili quella cosa più comune infatti mi preoccupa più comunque quella versione femminile a sto punto riprofoniamola e page anche lei che ha abbandonato il mondo del wrestling e depressione quello che mi ha detto ho scoperto che alcuni personaggi lottatrici che lottatori sono morti da poco purtroppo per tanti motivi uno ma ho scoperto che è morto da king se non erro per covid un ex wrestler storico che poi era pure quello che faceva la voce sta buona quello che faceva la voce del conduttore insomma scusatemi il cronista ma ecco qua guarda guarda che bella lei e si c'è sta guarda tutti i maschi a godè tutti i maschi manco una femmina dai vediamo un po di fare un bel duello mi sono riabituato un po con qualche azione quindi a posto oh lei è andata ok ok vediamo se riesco no ma hai preso a me lo vuol dire che aspetta hai rubato il l'avversario secondo me presa oh grande bella mossa mi sono buttato solo perché mi ha cambiato il personaggio al volo tiè ok lola che mappa bella presa bella mossa ah comunque avete notato che ho avuto una difficoltà tecnica prima nell'auto gameplay che praticamente i tasti non prendono a comando subito e questo è una cosa gravissima del gioco e poi perché molto meccaninoso ecco non l'ho presa e quella l'ho sbagliato io oh bella una combo è stata una combo di azione e sono perduta oh no che ho fatto lol ok no ah ma la mia sta lì la terra dimmelo aia e ma può qualcos'altro no olè aia ho capito però noi dobbiamo rientrare il par nel palco perché prendo martellate eh mi sono attivo aia raga dobbiamo rientrare dentro in un macello questo è puramente violenza violenza calma psicopatica oh non riesco vedete come c'è un problema di intera raga dovremmo rientrare dentro in turismo è un casino ok no per favoposto rientrare dentro quella le sta prendendo beh la mia compagna sta leggermente le sta prendendo si però io dovrei anche rientrare eh non vorrei dire nulla però vorrei rientrare nella grazie ok dai ah così impari quello intanto sta all'ottato io intanto te levati no vorrei voler menarlo scusami ok no vorrei uscire ok oh bella andata ah ecco finalmente tutte e due dentro ok ok finalmente bombe del olè anche io olè 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 andata allora allora oh bella presa avete visto avete visto guarda che bella presa ti è si è liberata ok è andata tra oh sta andando bene avete visto sono leggermente migliorato no vedete che no 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 ho poco e ce l'ho fatto oh ma quale albero chi se ne frega dell'arbito no devo ripigliarmi le abbiamo menate tantissime le siamo prese proprio tanto ma oh pc raga lì a è si è addormentato ahia le mazzate no l'ha nata le scale oh meno mai che non l'ha presa quella che sta prendendo un gioco molto carino e coccoloso raga ricordate non fatelo a casa queste cose non le imitate non fate nulla ma do le mazzate l'ho presa ahia quella è fallo vabbè ho fatto pure il gioco estremo cioè quella cosa del tipo senza regole è il gioco bello bello quello di uno e una rilascia di stephanie ma ahia che l'ha faiata povera amica mia no, quella è morta, ok, scendiamo dai venite qua no, voglio che scendi no, no, voglio prenderla al volo ne prende lei, vuoi scommettere? ah, festa è andata malissimo ahia, comunque le ho prese più io le ho prese mamma mia che cosa ti sei, cosa hai preso? scusi, scusi, ma che cosa mi hai preso? vediamo se riesco a prendere oh, bella bella, come vediamo se riesco a prendere oh, l'ho presa chi è? ah, ecco, così l'ho presa ecco, l'ho presa anche a te no, cosa ve lo prendo? ahia, è fatta male complimentetelo, eh rotola, rotola quella ci sta a divertire, eh è divertente che gli ha stanco la gioca, eh non posso manco cambiare sta a vincere lei, sta a vincere ce la siamo fatta le abbiamo prese, eh prese tantissimo bombe, bella come si stavano strappando i capelli praticamente bello e questo è stato il decisivo eramo lì a terra tutti i due rincoglioni bello mi è piaciuto mi è piaciuto bel combattimento bel combattimento guarda, guarda come si sciarano esci però devo essere sincero è una dinamica molto lol lo rifacciamo è stato divertente sì, sempre tra donne perché è più divertente l'ho confesso sono solo indeciso chi chiamare eh, mamma mia, storia sì, qua ci sono un sacco di personaggi che hanno fatto storia eh, guardate quanti personaggi eh, sì Undertaker sì, sì tanti bei personaggi ci sono lasciate stare non lo so sto vedendo qualche personaggio che non so quasi mai eh, in teoria lei la deve usare anzi questa volta uso lei mmm no eh, scusate mi trova webcam così ecco usiamo lei che ha fatto storia e un bel personaggio poi qui che abbiamo uh, facciamo le dai facciamo le giapponesine giapponesine anche loro hanno fatto un po' di storia eh, sì perché giustamente ci stanno le versioni lei ha fatto tante versioni alternative ci sta solo che onestamente vorrei usare qualcun'altra eh, questo è strano questo è non mea ricordo vabbè lei ha fatto quella l'abbiamo già usata volta scorsa quindi ok ok però non mi interessa madonna quante eh, non dico che bruttina però scegliamo loro dai due bionde e due asiati e due giapponesi anzi credete una giapponesa e una tigina solo un secondo oh ecco comunque da vediamo un po' la belle intro intanto ho dato un secondo che è meglio oh eccoci qua benissimo scusatemi era un attimo da fare ho un atto rispondi a un commento un po' che ne ha digno ma intanto ecco la qui guarda è bella lei gli faccia un bello scontro a due a due che ci emmeniamo quando ci possono domani ecco eccola qua questa ha fatto storia lei fa delle belle prese vabbè quasi tutto il wrestling si basa su prese posizione e cose male quindi ci sta eh ci sta ci sta guarda come sale bella tutta contenta devo rivedermi un po' di wrestling ma soprattutto devo rivedermi se ci sta proprio non dico una serie ma proprio le puntate del wrestling dagli anni 90 in poi non mi dispiacerebbe ma non mi dispiacerebbe proprio rifarmi un po' di cultura un po' di storia insomma è sempre uno sport sempre uno sport vabbè lo so che molti mi diranno il programmato o lo volete però non mi dispiace lo stesso insomma ci sta ci sta ci sta tutto ecco lei è tutta pronta a combattere lei è la più giovane della nuova generazione però è quella più nota di tutti ok sto zitto è una piratessa mi stai prendendo in giro è la piratessa ho seriamente paura pure io che mi metto a guardare loro comunque è fatta bene vedete come le immagini che tu sceglie il personaggio sono uno schifo quando devono essere quando si gioca invece sono fatte bene quindi quindi figurati ma cosa è allucinante insomma guarda come sono un pirata ma spie qual'era la canzone cinque quindici uomini quindici uomini sulla cassa del morto con un arco e il vento non la conosco tutta però gli sale il tesoro si però mamma mia si ho capito che sei una piratessa spogliati eh voglio dire togliti qualcosa è il cappello si si il cappello vediamo la prossima ho paura comunque è una giapponese solo è giapponese facciamo una cosa vediamo il prossimo la prossima è una citazione a come si chiama l'uomo tigre citazione dell'uomo tigre allora giochiamo oh bravo bella mo tutta contenta mo se mi blocca anche questo vi picchio tutti ok io che vorrei ah si giusto sono bombate cominciamo alla grande oh ma che buone aia bella la prese oh ma già cominciamo alla grande ma perché uffa già facciamo partite malissimo aia pure le prese oh finalmente oh finalmente oh finalmente e ole boom bella ole vabbè che l'altra fa tutte e due le prese lol ci stava ci stava ci stava ho sbagliato presa ho sbagliato tasto sono uscito fuori poverina dai rialzati che dobbiamo aiutare dai che ce la fai oh bello oh bello ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato oh bella presa bella ciao sono cadute tutte qui che la porta dalla mazza da baseball non vale che vuol giocare a baseball ma che la mazza non vale questa si chiama violenza violenza femminile e non trovate la scusa solo perché sono te non ce l'ho fatta giusto in te bello Natalia sembra che l'ha forgotten lei è in un match adesso oh bello 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 Ho fatto male! E ora è buttata giù. E così imparso. Ma che te? Ho cambiato subito il personaggio che non avevo capito che voleva. Olè, grande! Eccola, è andata! No, no, no! Perché il calcio? Io mi voglio ripigliare però eh, sono ancora lì a terra. Mezza rincoglionita. Oh, bellissima, è andata! Oh, forse è andata! Dai, fammi fare una mossa special. Ok. Vittoria? No, cavolo, per poco! Vittoria, grande! È andata, è andata! Yeah! Non è stato facile, guarda, l'hanno massacrata, la poverina. Però pure quella che ho usato. Bella mossa, bella! 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 Oh, è andata, è andata bene! Lei ha fatto più lavoro che io. E poi la vittoria. E poi la vittoria, cioè, grande! Bellissima! Bene! Posso concluderla qui. Fidel 38, al prossimo video. Dai che andata! Credo che faremo solo femminili, perché se i maschili mi bloccano i video... bella ragazzi! Un saluto da loro! Tutti contenti! Ciao ragazzi!